Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video! Siamo tornati qui tutti insieme per giocare a Socher Champs! E oggi andremo ad affrontare altre sfide che ci aspettavano già dallo scorso episodio. Prima tra tutte la formazione mi sembra un po' stanca, essendo che dobbiamo affrontare la coppa, uso il potenziamento necessario così tutti i giocatori sono riposati perché altrimenti è un problema. Comunque questo Diego Cardenas ha un potenziale assurdo, buono come quello di Mucocò, Cristian Napolitano, Fabio Silva, hanno tutti degli ottimi potenziali. Sfruttiamoli! Fermana-Palermo, Coppa Italia, si parte! Si parte con la Fermana che parte super aggressive! Riuscirà la difesa a spazzare? Sì! E dopo due minuti attacca il Palermo! La palla arriva nei piedi di Fabio Silva che con un tiro a giro segna l'1-0! Attenzione la partita prosegue ma non è mica finita qui perché adesso la Fermana attacca ma Mancini fa buona guardia! Mi pare che era Bruno Pizzul che parlava così. Attenzione la palla è verso il centro del campo! A proposito ditemi nei commenti quale telecronica preferite che ve la porterò più spesso! Attenzione la Fermana attacca! Il portiere in due tempi spazza! Iniziamo comunque a mettere dei piccoli obiettivi quindi arriviamo a 45 like per un nuovo episodio di Socher Champs! Che comunque sarà a cadenza circa settimanale! Attenzione perché la Fermana ha un'occasione d'oro che però spreca malamente! Il Palermo sta attaccando poco ma ha capitalizzato la sua occasione! Riusciranno i ragazzi rosa nero a portarla a casa? Io non ne sarei certo prima dell'ottantanovesimo minuto! E infatti la partita non è ancora finita perché al novantesimo la Fermana attacca! E la Fermana viene fermata ma poi viene clamoroso salvataggio di Mancini! Che salva con un'unica occasione il Ternana! Scende dalla Coppa Italia e il Palermo è salvo! Bene ragazzi non ho visto quali squadre si erano qualificate! Ho modo di vederlo? No! Cioè in realtà si se vado su altri campionati! No! Devo cambiare campionato! Come si faceva? Aspetta! Si faceva Accademia Giovanile? No! Serie C? No! Allenamento? Scout? No! Va bene! Niente! Allora continuiamo così e giochiamo contro il Catanzaro! Contro il Catanzaro dobbiamo impegnarci perché non dobbiamo subire gli effetti nefasti della soppressata! Però Fabio Silva con un piccolo passetto si marca e si sdribble il portiere! Anche se si dice dribble io me lo sono sdribblato perché l'ho fatto tre volte! Hop! 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 Tiro! E all'undicesimo minuto il Palermo è avanti! Attenzione al quattordicesimo minuto! Testa! 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 Testa la passa a Brewster! Un spacchio in Brewster! Che la passa a Fabio Silva! Fabio Silva! Goal! Fabio Silva! 2 a 0! Il Palermo c'è ancora! Aniello Testa proverà il tiro a giro modificato! Che a momenti entrava! Palermo non può sprecare occasioni perché il Catanzaro è ancora in partita! Catanzaro che segna subito un gol alla sua prima occasione utile! Mettendo molta pressione ai ragazzi siciliani! Che però con un altro passaggio efficacissimo a Fabio Silva segna un altro gol! Tripletta per il bomber portoghese! Il nuovo Cristiano Ronaldo sostengono alcuni! Dopo la tripletta al primo tempo Fabio Silva cerca di calare il poker! Avrà la sua occasione di farlo? Sì! Perché è smarcato! Ora è marcato e tira all'angolino! Questo gol va rivisto più e più volte! Opa! Poker per Fabio Silva che proverà addirittura a calare la manita! Ovvero farne 5 in una partita! Fabio Silva però viene preso da un attacco di generosità che la passa a Brewster! Brewster la spara fuori! Attenzione il Catanzaro non è ancora finito! Infatti Galasso segna un golasso e siamo sul 2 a 4! E come se non bastasse perché ancora ce n'è! Il Palermo rischiava di prendere il 3 a 4! Il Catanzaro si è un po' rimesso in partita vedo! Riusciranno i nostri eroi a salvare il risultato? Ormai sì! Al 100%! Niente più occasioni! Fabio Silva fa sì che la vittoria sia meritata e rimette il Palermo al primo posto! Attenzione! Cristian Napolitano è il primo giovane che sale di un overall! È cresciuto di uno Cristian Napolitano! Mi fa piacere per il ragazzo! Per il resto nessuna novità! Avanziamo e probabilmente simuliamo questa! Vediamo come va con la Fidelisandria! Vabbè! Oh! Sofferta! 38esimo e 39esimo noi! 48esimo e 54esimo loro! Ma ce l'abbiamo fatta! Il Virtus Francavilla e il Messina sono i miei rivali! Messina che gioca col Turris e Virtus Francavilla! D'ora in poi controlleremo anche i loro risultati! In alto a destra e in alto in basso li potete vedere! Fabione Silva la spara fuori! No! Il Messina! Che fa il Messina? Ancora pareggia? Intanto noi dobbiamo vincere! Se vinciamo siamo tranquilli! Quindi Fabio Silva sfrutta lo spazio vuoto! Però il Monopoli attacca! Prova a intervenire in difesa! No! A momenti sbagliavo! Il Virtus Francavilla perde! La Virtus Francavilla perde a Paganese! E il Messina pareggia! Questo è un gran colpo nella classifica! Se il Messina perdesse! E il Virtus Francavilla pure! No! E vabbè! Diego Napoli ha dovuto segnare per forza! Virtus Francavilla ovviamente che pareggio! Così come noi! Anche se noi ora rischiamo di andare incontro a un risultato ancora più nefasto! Con Alessandro D'Ambriosio che ci rovina tutti i sogni di gloria! E finché il Messina e il Virtus pareggiano sono abbastanza sereno! Però mi dispiacerebbe perdere così! Bellissimo! Se non avesse tirato fuori sarebbe stato un bel gol! Il Messina perde! In vista vetta comunque abbiamo rallentato abbiamo evitato problemi! Attenzione il Virtus Francavilla ha perso pure! Questo pareggio sarebbe oro per noi! Ora sì che questo pareggio sarebbe oro ragazzi! Cusini! 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 Palo! No! Finiscono qui le speranze del Palermo che è primo ma con gli inseguitori tutti avvicini! Sarei stato a 18 e avrei staccato un po' tutti! Ma purtroppo non è stato possibile! Attenzione! Terzo turno di Coppa Nazionale! Ah non siamo contro i forti della Serie A però siamo sempre tra noi! Va bene dai! Però sempre Coppa Italia è! Col Ponte d'Era! Vediamo che si fa! Con il Ponte d'Era dobbiamo vincere! E basta! Al 34esimo minuto succede qualcosa! Me lo sento! No! Allora al 43! Al 43 saranno 4 minuti che il Palermo festeggerà il suo quasi ovvio gol! No! Ho sbagliato i tempi di tiro! Dovevo fare una piccola finta rientrare! Primo tempo che si esaurisce in un nulla di fatto! Arriverà il 61esimo minuto per far succedere qualcosa! Un quasi gol? No! Un autogol di Luzzana in difesa! Lui che è un caposaldo della difesa si fa autogol! Palermo condannato? Probabilmente sì! Si spera in un miracoletto finale! Nel miracoletto mi sa che è arrivato per il Ponte d'Era con Federico Vino! E va bene ragazzi ci abbiamo sperato! E addirittura arriverà il 3-0 adesso! Perché la sfiga è quella! Abbiamo perso senza neanche poter combattere quindi in modo totalmente vergognoso! Siamo usciti dalla Coppa Italia! Mi vergogno del risultato! Contro la Vibonese serve guardare indietro e avanti allo stesso tempo! Guardare il Messina, rivale siciliano e guardare noi! Noi dobbiamo urgentemente vincere perché siamo troppi ormai in quella vetta! La squadra di Vibo Valencia però è la prima occasione della partita che sprutta con Marco Solimene! Il prossimo calciatore che segnerà un gol sarà il commento che dovrete lasciare! Quindi non vi dirò io una parola ma dovrete saperla voi! Perfetto ci siamo capiti! Il primo tempo viene pareggiato a sorpresa da Cusini! Cusini scusate Cusini! Attenzione Fabio! Non arriva ad avere la palla! Per una disattenzione difensiva! Ma Fabio deve uscire e deve lasciare spazio al giovane talentino Cardenas! Si carica sulle spalle l'attacco della squadra! Riuscirà a fare il suo gol all'esordio? No! Ma Alessio Mariani sì! Il Palermo si trova a perdere di nuovo! E non riesce più ad attaccare! Dai ragazzi almeno il pareggio dobbiamo prendercelo! Attenzione! Palla che arriva al Diego Cardenas piccolo talentino della primavera! Diego Cardenas! Diego Cardenas! Diego Cardenas! La pareggia lui! Appena è entrato! Il giovane talento! La pareggia lui! Almeno il pareggio è arrestato raggiunto se non subiamo altri gol! Signori Diego Cardenas si tiene la squadra aggrappata e Brewster è aumentato anche lui di uno! Bene! Tutti i giocatori sono riposati! Il Picerno dov'è? Lì vicino! I nostri principali nemici sono Paganese e Foggia! Paganese e Foggia? Sono i nemici! Vediamo! Vabbè qua vittoria easy! Manco a dirvelo! Bellissima! Attenzione abbiamo messo qualcuno! Abbiamo superato la Paganese e abbiamo messo il Foggia! Solo il Foggia adesso c'è davanti! Attenzione perché Diego Cardenas sale di uno! Fabio Silva sale di uno! Zukovski sale di uno! Ragazzi abbiamo esattamente 5 giocatori cresciuti di uno! Buono! Siamo col Pescara e il Foggia è il nostro nemico! Vabbè! Gol facilissimo di Fabio Silva su assist di Youssouf Amukoko! Il Foggia vince col Messina! In questo momento anche la vittoria è un nulla di fatto! Ma Fabio Silva nel dubbio fa valere la sua autorità! E segna un gol al decimo! Questa partita vorrei fare 5 gol se riesco! Forse ho esagerato a chiedere! Parala! Ma non ci credo ragazzi! Cosa è successo alla difesa? Vabbè! Finché il Messina non pareggia la nostra vittoria sarà un piccolo nulla di fatto! Quindi dobbiamo impegnarci un sacco di più! Torno indietro! Fabio? No! Fabio non c'è arrivato! Niente tempo per Fabio Silva! Il Messina l'ha battuta la partita! Ragazzi! Il Messina vince! Adesso sì che è clamorosa! Il Messina l'ha completamente ribaltata! Speriamo solo che non ce la ribalti il Pescara perché se no non abbiamo risolto nulla! Bel gol! Bel gol del Pescara! Primo tempo che si esaurisce così con il giovane Cardenas che un po' freme e il Messina che sta stravincendo! Non dobbiamo perdere anche noi perché se no il successo del Messina sarà stato inutile! Con una difesa un po' miracolosa il pareggio resiste! Al settantesimo minuto, al settantesimo, anzi adesso visto che abbiamo preso gol, entra in campo l'uomo dell'Erimonte! Al posto di Brewster mi spacchi un Brewster, Cardenas! Speranzoso di pareggiarla di nuovo! Riuscirà la giovane promessa a fare un miracolo? Beh, dovrà farne due se vuole pareggiare adesso! Quindi entro il settantanovesimo ci dovrebbe essere il primo? No, niente! Vabbè, non possiamo certo sperare che Cardenas faccia magia ogni partita! Ma sarebbe sbagliato attribuire a lui la sconfitta di oggi! Mentre i giocatori si sono abbagati che è un piacere! Spazza la palla! Oh, la spazzi sta palla! Zuchowski! Niente! Il Palermo perde rovinosamente perdendo anche la cima della classifica a Virtus Francavilla, Foggia e Messina! Uh, ora siamo contro il Catania! Contro il Catania non possiamo perdere! C'è il derby, ragà! Il derby col Catania è oro! È una rivalità storica! Tanto che Cardenas parte titolare e malavenda pure! Partiamo! Catania-Palermo! Lo scontro che tutti stavano aspettando! Attenzione! Contro i nostri nemici catanisi non andiamo a piedere! Per chiunque non abbia capito non possiamo perdere contro i nostri diretti rivali del derby! Però, a quanto pare, il portiere fa buona guardia con il suo 67 di overall! Ma Karavashenko c'è ancora? Ah, sì, ok! Attenzione! La Sicilia orientale adesso si tocca dover difendere contro Testa che passa a Fabio Silva che tira e segna contro il Catania! Fabio Silva! Però attenzione che i catanesi stanno tornando in attacco! C'è un uomo libero! Francesco Pica purtroppo segna l'uno a uno! E come se non bastasse, in un tutti contro nessuno, pari di Alfonsi, cala la doppietta Catania! I ragazzi vanno nello spogliotoio molto delusi della prestazione, ma per il miracolo bisognerà lottare e sporcarsi le maniche! Cosa è successo? Cosa è successo lì? Non ha senso! No ragazzi, è partita così bene, ora il Catania ce le sta facendo, ci sta dando un pochettino di problemi! Come si dice alle nostre parti, la gran suga di coppa ci sta dando il Catania! Purtroppo il Catania mi sta facendo uscire il siciliano che c'è in me! E neanche un'ottima difesa post può qualcosa! Uh, Brewster deve subentrare! E lo mettiamo anche avanti in attacco, così come Cusini! E Magallanes, tutti avanti, vai! Tre sostituzioni per il miracolo? No, perché questo è un gol! Non posso fare nulla a riguardo, e questo è un gol! No, ma perdere 4-1 col Catania no, dopo che vincevamo! Che non è bastato Fabio Silva! Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Siamo sconfitti dal derby? Distrutti da questo Catania! Perdiamo la vetta della classifica! Il Mano al Virtus, Franca Villa! Tutti hanno deciso di crescere un po', tutti di uno! Fino a qua! Mancini, Luzzana, Testa, Brewster, Zucorski, Fabio Silva di nuovo, Napolitano, Mucocò, Cardenas, sono tutti cresciuti! Fabio Silva vale 5 milioni! Qualcun altro che vale tanto? Mucocò vale 2! Portiere vale 1! Va bene, dai! La squadra c'è, sta crescendo! Sicuramente rimettiamo Brewster titolare, perché sì, e anche Cusini! E ora vediamo, in campo dovremmo avere tutta gente sopra il milione tranne Andrea Trotta e in panchina tutta gente sotto i 500.000! Così è la vita! Va bene ragazzi, avvierei l'ultima partita di oggi contro il Potenza. Dobbiamo guardare soltanto la Virtus Franca Villa, perché soltanto la prima si qualifica diretta, cioè solo la prima si qualifica alla Serie B. Quindi se vogliamo il Palermo in Serie B, dobbiamo battere la diretta rivale. Cristian Napolitano direttamente da? Dal centrocampo, destro, patte e segna. Ma il Potenza attacca. Ma Luzzana fa buona guardia. Novità? Da Virtus Franca Villa non ne abbiamo, quindi per ora è un pareggio. Per ora è un pareggio. Per il Virtus Franca Villa no, è una vittoria. È un pareggio di nuovo. Il Picerno ha pareggiato. No! No ragazzi, no! Sei infortunato il portiere, no! No, 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 no. No, 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 no Prima parata di Karavashenko, e il Picerno perde, quindi ora siamo noi a prenderla in quel posto. O il Picerno pareggia, o comunque noi dobbiamo vincere. Sì, 4 contro 0, e poi? Wow, applausi per questo gol del Potenza, wow, niente da ridire. Forza Palermo, forza Palermo, recupera! Fabio Silva! Che gol! Bene, il momento di Cardenas non è ancora giunto, a 79esimo entrerà, me lo sento. Ora, Cardenas, Mucocò, attaccante centrale. Attenzione, è l'azione che cercavamo, se la sfruttiamo bene. Brewster, 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 Brewster. Ah, non posso passare, è rischioso. Ora sì. Fabio Silva? Fabio Silva? No, sono messo male, sono decentrato. Rischio. Fabio Silva! Fabio Silva! All'incrocio, dopo 47 tocchi di Brewster, Fabio Silva! Fabio Silva! Che vittoria, signori, che vittoria! Purtroppo il Francavilla pareggia! Il Francavilla pareggia! Ragazzi, al costo di una vita umana, che è stata sacrificata, Rip, Mancini, Karavashenko ci ha abbandonato. Ovvero, Karavashenko ci ha preso la porta, Mancini ci ha abbandonato. Ma Fabio Silva ci ha fatto sognare 24 gol in 12 partite. Wow! Nessuno arriva in Accademia Giovanile. Il Palermo qua tiene botta. No, questa è la Serie A. Voglio vedere delle tre serie. Tutte e tre le prime hanno pochi punti. E tutte le quarte ne hanno 22. Wow! Va bene ragazzi, il video finisce qui. Con una vittoria, come è giusto che sia, ci toccherà affrontare il Taranto la prossima giornata. È necessario? Sì, il Taranto è vicino a noi. Vincere per sognare di nuovo. Per il resto, il video finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per seguire le novità, lasciate tanti, tantissimi piace, passate dal server Discord, dal canale Twitch, dal canale di Giuseppe Novelli per restare aggiornati su tutte le novità. Detto ciò, è davvero tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video!